C'è un po' di differenza C'è un po' di differenza C'è un po' di differenza Ecco il silenzio Non è record Non è record Non è record Tocca a me Ciao a tutti ragazzi Siamo Remy e Molly E benvenuti in un nuovo passaggio video Lo senti? Si è Molly o è un cagnolino 수도o il cane Ma questo è un lupo Anche i cani fanno Lupa al lupo Allora Eko Che verso fa il cane e il lupo Ma che domanda è Ecco una risposta che ho tradotto da Internet I lupi ululano come un cane ulula I lupi ululano come un cane ulula Ulula ulululululululululu Qante c'era ma questa frase Io non ho capito niente Aspetta aspetta Allora facciamo tutti così Allora Edi diciamo che questo Silenzio È verde Questo è viola Allora eco Fammi il verso del lupo È un lupo Hai sentito? Adesso No eco Eco Ecco Ecco No eco Fammi il verso Del cane C'è un po' di differenza C'è un po' di differenza Grazie Ecco il silenzio Comunque ciao a tutti i ragazzi A me tornati su Comunque Molly Ma sta ancora baiando Queste verde Queste viola Molly stava dicendo il contrario Allora Comunque oggi i lupi Non c'entrano niente Perché dobbiamo far diventare I cani delle salsicce Dobbiamo far diventare I cani il lupo Allora in pratica 3, 2, 1 Vieni giù io No 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 Ma perché? Questo gioco si chiama Sausage and Dog Allora ragazzi E dobbiamo trasformare Mi fai parlare Mi fai parlare Mi fai parlare Wow Dobbiamo trasformare il cagnolino In un salsicciotto Wow Bellissimo Ti piacerebbe avere un cane salsiccia? Sì ma ci sono già Sono i bassotti Ma non sono I bassotti Sono bassi E lunghi Ma no ma poverini Ma è vero Ma sono fatti così A tutti i cani salsiccia Ci dispiace Ma no Ma è la verità Ma hai fatto così Ok livello completato Ne facciamo due testa Perché ci ha cominciato Ma dai Ma non è giusto Allora ragazzi Allora Facciamo una petizione Una petizione per la Rebby Per iniziare per prima i giochi Facciamo una pozzetta Hai detto Scriviamo nei commentini La Rebby deve iniziare per prima Scrivetegli allora ragazzi Perché non mi fa mai iniziare per prima Camera caballera Non ho mai fatto prendere l'osso Rebby Hai preso Quindi devo risiocare No 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 Cosa stai dicendo No 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 Adesso mi devo mettere subito in posizione Perché parte subito Parte subito Ma che è Stiamo sbloccando un dalmata Vorrei dire che questo gioco comunque Me l'hai copiato Non è vero Perché ci avevo già giocato io Ne l'hai Su mio canale Rebby Che se non lo sapete Dovete andare tutti ad iscrivervi Sì E comunque avevo già giocato E tu mi hai voluto copiare E giocare per prima Ma non è copiare se lo fai anche tu Non è che tu copirebbi Rebby sei tu Non è che puoi copiare Ero sia copiato Rebby Va bene non va bene Ok Ok Se ne stiamo facendo Oh attenzione attenzione Nooo Non ho preso l'osso Cane e salsiccia Cane e salsiccia Ma io voglio sbloccare l'altro cane Ma che sai che fai lì Quale è l'erba gatta Ma che è l'erba gatta Ma che è l'erba gatta Il cane piace l'erba gatta Oh Abbiamo sbloccato un dalmata Vai prendo Oh ma un dalmata bellissimo ma ti ha detto che toccava a te io l'ho detto in ogni caso adesso gioco io e poi giocherò di nuovo io io intanto vorrei chiedere guarda il cane bruco io vorrei chiedere una cosa appena finisci il livello non cliccare su start no io vorrei chiedere una cosa appena finisco il livello clicco sul prossimo livello e gioco sempre al prossimo livello e poi al prossimo livello e poi al livello no adesso stai calma ok fermati calma devo dire una cosa devo dire una cosa ecco no esistono i cani salsizza tradotto da movicultis.com si i cani possono mangiare salsizze ma no i cani delle salsizze dovresti assolutamente usare le salsicce come principali fonte proteica non do ok non mangiate le salsizze non mangiate troppe salsizze perché fanno male cani mi raccomando non mangiate troppe salsizze è tocca di nuovo no 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 bella basta ecco il silenzio ecco abbiamo preso i cani di salsicce wow il cani urcomaleno ok ma dopo tocca a me cane salsizze no 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 oggi giocherà solo la reby vero ragazzi siiii Tu a sto gioco, tu hai già giocato nel tuo canale E allora? E non posso giocare anche qui? No, se no te lo copio Come me lo copi? Ma l'abbiamo già copiato Io mi sto copiando da sola No, basta! Che cosa stai facendo? Ok, cane d'alma da salsiccia Comunque al prossimo cane ci penso io I miei capelli Allora adesso mi metterò qua Raby, basta, stai facendo una confusione incredibile Ma ti prendi una camomilla? Ma comunque ti piacciono i miei occhiali? No, come no? Sì, belli dai Ma non li avevi prestati tu questi occhiali? Mi piace più il cane salsiccia arcobaleno Bello, comunque io non ho capito Se sull'erba il cagnolino si allunga Oppure rimane così Non lo so Ma che è questa roba? Un cane scimmia Ma no, ma è uno di quei cani Non mi viene il nome Ecco, esistono i cani scimmia? Ma no Ecco una risposta di un utente Alexa Che ho tradotto No, sono personaggi di fantasia Ma come no? Te l'avevo detto Via Ragazzi Mi raccomando adesso qua sotto nei commentini Un bel hashtag No, no Molly la Rebby Te l'aveva detto Ma che te l'aveva detto? Guarda Te l'aveva detto Oh bellino però Il cagnolino tutto nero Hai visto il cagnolino tutto nero? No Ha una freccia in testa Ha una freccia in testa Ha una freccia in testa Il cagnolino Guarda quante ossa Buono, buono Record, record? No, non è record Come non è record? No, no, devo fare Devo vedere Ma quando ne vado a giocare? Eh, ma devo vedere La tavola periodica delle ossa Senti, hai già giocato quattro volte Non è vero, tre No, non è vero Volevo fare così No, hai spaccato una parete Poverino Comunque io vorrei spoilerare una cosa Ma riguardo agli animali Ma non si può dire niente No, no, noi la vogliamo dire No, non si può dire No, perché? No, no, adesso ce la dire Cioè, ragazzi Ragazzi dovete continuare a guardare i video di Rebby e Molli E presto ci sarà una bella sorpresa Perché io non la so? Eh, no, tu la sai Eh, me la puoi dire Eh, no, sei stupidina e non ti ricordi Ma ragazzi No, non è vero ragazzi Io non la so questa Dai, dimmelo a me Ragazzi Perché stai ancora giocando tu? Dovevo giocare in me Oppure era solo una tattica per giocare No, 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 non è gioco Comunque adesso me la puoi dire No Ma nell'orecchio Non c'è sempre nessuno Ragazzi, se volete questa sorpresa Dovete continuare a guardare i video di Rebby e Molli Ma io non ho capito Io perché non la posso sapere? Ma tu la sai già Ma io sono Rebby di Rebby e Molli Dovrei saperlo Uh, ma cos'è un cane medusa? No, ma è bruttino No, dai, ma è bruttino questo cane È un cane axolot Cosa? Un cane axolot No, dai, dietro è bellissimo Ma da davanti è bruttino È bruttino davanti È bruttino davanti Però dietro è carino Dai Ma tu assomigliava un po' davanti Non è vero Non mi assomiglia Oh, ma questo livello è difficile È difficilissimo Comunque prima avevo una domanda Eh Allora, quando prendo questo osso qui? Posso andare a sbattere tutto che non mi succede niente? Prova, prova, secondo me no Vai No, no, no Eh, sono andata a sbattere E ho perso punti Allora, chi arriva per primo a 250 sui record vinse Ok, mi devo concentrare A parte che adesso ho quattro prove per farlo No, 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 tre Io so che ho avuto tre volte, bella Ah, ho capito come funziona l'erba gatta L'erba gatta, ma cos'è l'erba gatta? Quella lì, hai visto? Se tu la prendi Eh Ci danno le monettine, guarda Hai visto? No, è vero, è l'erba gatta Ma è l'erba canina È l'erba gatta quella È l'erba canina È l'erba gatta Bella Oh, 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 potrebbe essere record No, tocca me dopo Potrebbe essere record Potrebbe essere record Adesso è colpa delle ossa Ma non ci sono tante ossa in questo livello, guarda Ma ti lamenti solo, ma mangio le ossa Ma hai visto che non ci sono tante ossa? Ho visto, ti sta bene È il mio turno Non ci pensare Non ci pensare Io mi scaccole e ti attacco le caccole ai capelli Non ci pensare neanche No, non mi stai facendo sbagliare Qui ce ne sono tante di ossa No, questo livello era mio Qui ce ne sono tante di ossa Sì, buone, queste ossa Potrei fare il record Più veloce, più veloce, più veloce Sì, ma dai, ma dovevo giocare io qua Ok Qui potrei fare il record, ragazzi Attenzione Dai, non è giusto, era mio Attenzione Attenzione Perché qui potrei fare il record No, no, no Sì, ti sta bene No, no, ce l'ho quasi Vai, vai Molly, vai Mancava tanto così dal record Oh, mi dispiace Comunque non lo fai neanche questa volta Sì, che io lo faccio Guarda quante ossa Guarda quante ossa Ci sono un po' di ossa Ma non sono abbastanza per fare il record Guarda quante ossa Oh, ce ne sono un bel po' di ossa Dai, ma non vale Ma perché tu sempre i livelli dove ti... No Ma ha tagliato il salsicciotto Non è record Non è record Non è record Non è record Attacca me Sì Livello 14 Attenzione Ma secondo me non lo facciamo più record È buggato È buggato il gioco Allora, creatore del gioco Creatore del gioco Inseriamo un record Record man Ok, attenzione Forse se rompi le barriere ti danno le ossa Forse devi rompere gli ostacoli con l'arcobaleno Non così Aio Con l'arcobaleno ti venga Mi hanno dato nessun osso Adesso gioco di nuovo perché mi hai fatto andare a sbattere te No, 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 no Sì, 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 sì Guarda, eh Adesso avrò fatto... Ecco, ho fatto solo cento No, adesso ho due Oh, un altro cagnolino Il cane con le pantopole Secondo me questo cagnolino qua si allunga più facilmente dell'altro Guarda No, Reby, Reby No, no, gioco io dopo Due a testa, eh Oh, attenzione Oh, no Ma guarda, non so neanche giocare Oh, no, 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 no Oh, no, oh, no Vai, prova a rompere Sì Mai No, no, cosa? Cosa? Lo so già provato prima Ti ho detto che non funziona Due a testa e basta, eh? Perché tocca a me adesso No, dietro record Dietro record Vai dalmata Mai volevo il dalmata Ma scusate, ma come si fa a scegliere il cagnolino? Eh, non si può È il cane che sceglie il padrone Guarda No, ma mi fa danno comunque Scusate, aspetta, aspetta Com'era, com'era? Te l'avevo detto Ma dai Hashtag, ragazzi, mi raccomando, nei commentini Ma non si riesce a fare il record Ma no, è niente record Mi dispiace Ho l'ultima possibilità Ce li guasi, ce li guasi Ma poi non c'è neanche lo shop Cioè, ogni volta che arriviamo in fondo Le monete ce le cava tutte Eh, l'avevo detto Allora, creatore del gioco Per favore, se ci stai ascoltando Devi mettere più cagnolini Più ossa Devi mettere più ossa Devi mettere uno shop Lo shop E deve mettere che cosa? Il record che si possa raggiungere Perché altrimenti non ce la facciamo Guarda, sei pronta? Oh Sei pronta, cane salsizzo? Oh, mamma, questo potrebbe essere? Oh, se non è questo Io chiamo il mio avvocato 200, 200 Brava Molly Abbiamo capito che il cane ulula No, il cane abbaia Mentre il lupo ulula Aspetta, ho una domanda Basta, no, no, no Ecco Che verso fa la Rebby? Tradotto da jackarchibald.com Rebby e Jackson E' un contratto con una gamma di 30 anni Rebby e Jackson Perfetto Nuovo canale ragazzi Rebby e Jackson Ragazzi da noi è tutto Ci vediamo per oggi In un nuovo tasico video Ciao 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 Grazie a tutti.